benvenuti a questo nuovo appuntamento con le strade della vita. Questo venerdì 9 aprile è andata in onda la prolusione di una serie di trasmissioni che verrà mandata in onda ogni venerdì appunto sul canale Piacenza Diocesi.dv a cura del servizio di pastorale scolastica della nostra diocesi. Sentinella quanto resta della notte. Questo passaggio di Isaia è il titolo di questo ciclo di incontri che cercheranno di indagare su quello che succederà, su quello che sarà, ma anche su quello che stiamo vivendo ancora adesso nel pieno della pandemia. E questo è declinato in diversi settori. La polis, l'umano, la salute, la società, la chiesa. Quindi che cosa succederà ma soprattutto quali sono le domande. Non è tanto una ricerca di risposte ma è abitare le domande che in questo momento ci stiamo facendo. lasciarle emergere e non farci spaventare e magari insieme cercare degli spunti di riflessione. Il servizio di pastorale della scuola ha previsto per ogni incontro degli ospiti in studio, del territorio, un ospite a livello nazionale collegato online per cui collegato in remoto e poi delle persone che come relatori e anche ospiti in studio cercheranno di interagire per dare la loro testimonianza. La prolusione, come vi dicevo, è affidata a Monsignor Luciano Monari che ci aiuti ad entrare in questo testo che lui stesso ha definito particolarmente oscuro. Ma intanto parliamo con Francesco Luppi e con Claudio Ferrari della pastorale della scuola per farci spiegare qual è il desiderio che hanno in mente con questo ciclo di incontri. Da oggi per una serie di venerdì iniziamo una serie di incontri organizzati proprio dal servizio di pastorale scolastica ed è per quello che sono i nostri ospiti. Sentinella quanto resta della notte. Il desiderio, Claudio, mi sembra che sia quello un po' di indagare quello che questo tempo ci sta suggerendo, le provocazioni che ci sta lanciando. Parlo del presente perché non ne siamo fuori, non possiamo dire che cosa ci ha suggerito e che cosa succederà dopo perché forse ci siamo ancora veramente tanto dentro. Rispetto a 14 mesi fa forse vediamo l'uscita dal tunnel ma siamo ancora tanto assorbiti, forse anche un po' più stanchi della prima grande ondata. Allora come mai avete sentito la necessità ma anche il desiderio di offrire anche a chi ci sta ascoltando questi spazi di approfondimento, di riflessione ma soprattutto di domande? Ti ringrazio per aver usato la parola desiderio, forse proprio quello che ha mosso il nostro gruppo di lavoro a pensare queste serate che iniziano appunto in questa occasione per vincere questa fatica o comunque guardare oltre più che vincere questa fatica di questo lungo periodo, un lungo periodo che l'anno scorso forse abbiamo pensato con l'estate che potesse in qualche maniera essere non dico al termine ma superato un po' velocemente e quest'anno ci siamo ancora in mezzo e la stanchezza come hai ricordato tu prima è probabilmente tanta, ci si fa sentire e allora abbiamo pensato che alcune parole, alcune provocazioni di persone del nostro territorio che in dialogo con persone dell'intero territorio internazionale su campi diversi potessero almeno un po' aiutarci a guardare oltre questo momento faticoso e a guardare con un occhio diciamo di chissà scrutare nel tempo buio una luce che si presenta, la locandina che abbiamo preparato mette questa lanterna ben visibile a dire vogliamo cercare un po' di illuminare questo momento sicuramente un po' oscuro e provo a raccogliere dei semi buoni sul futuro. Quali sono i temi e gli ambiti? C'è questo oltre che caratterizza un po' tutti i venerdì che ci aspettano da qui fino alla metà di maggio circa quindi già c'è questo desiderio appunto di guardare avanti senza dimenticare quello che stiamo vivendo e quello che abbiamo vissuto. Bene o male gli ambiti che esploreremo con questi osservatori un po' d'eccezione perché fanno parte degli ambienti quali sono? Diciamo l'oltre è un po' la cifra di queste serate è un oltre non per buttarsi le spalle ma per partire da quello che sta accadendo e guardare come poter vivere bene i tempi che ci attendono. Abbiamo pensato ad alcuni temi ma chiaro ne abbiamo scelti cinque potrebbero essere venti o trenta e quindi chiaramente quando si deve fare poi un'operazione di questo tipo non si può prolungarla per troppo tempo abbiamo provato a ragionare sulla salute sulla chiesa sull'umano e sulla giustizia sulla città sono temi trasversali non sono certamente temi intra ecclesiali ma temi della città della nostra città e poi siccome appunto a disposizione sui canali qualunque persona che ha notizie di questa proposta può vedersi in diretta nella sera in cui sono proposti anche in differita queste sono un po' le provocazioni ci sembravano temi abbastanza caldi della salute sicuramente ma non solo ecco le prospettive ecclesiali civile di questo periodo qui indubbiamente. Senti Claudio prima di passare all'introduzione di questa sera lo facciamo con Francesco Luppi una domanda che viene a me e che magari potrebbe venire anche a chi ci sta seguendo ma perché questa cosa viene proposta dalla pastorale della scuola? Perché la scuola dovrebbe essere il luogo in cui si sviluppa la cultura per il futuro a partire dai più giovani ma con tutte le persone che gravitano intorno ad adesso noi abbiamo questa convinzione e quindi di poter lavorare per quelli che guardano agli anni che vengono poi speriamo che siano anche ragazzi e giovani che accedono a queste serate ma la provocazione riguarda il mondo adulto che si dovrebbe far carico di servire le future generazioni. Forse perché non si smette mai o non si dovrebbe smettere mai di formarsi e di continuare appunto anche a crescere. Magari può essere anche un bel momento credo nelle famiglie di condivisione tra i genitori e i figli potrebbe essere veramente e ce l'auguriamo una buona occasione. Grazie a volte guardare i ragazzi anche in queste mattine incontro gli studenti a scuola sono proprio segni di speranza. Se si sanno interpretare le cose che ci dicono con le parole e con i gesti la speranza sul futuro è più alta di quello che si possa pensare. Grazie Claudio. Passiamo la parola a Francesco Lupi. Grazie per essere qui. Allora dicevamo un titolo particolare che resta certamente impresso Sentinella quanto resta della notte Isaia. Ricordo che quando sono stata da Monsignor Monari al quale appunto è affidata questa prolusione mi ha detto ma questo è certamente uno dei brani più oscuri che ci siano. Allora come mai con il desiderio forte di far chiarezza, di aiutarci a capire come stare in questo tempo abbiamo scelto un brano apparentemente oscuro? Sì perché crediamo che questo sia in realtà un tempo oscuro per certi versi e quindi possa rappresentare in qualche modo un po' il tempo che viviamo. Ma ci piaceva l'immagine della Sentinella. La Sentinella è una persona a cui è affidato un compito, il compito di guardare, vegliare uno spazio e un luogo ben definito e in un tempo definito. La Sentinella è una persona come le altre solo che ha questo compito. Ovviamente quello che deve custodire è perché viene ritenuto qualcosa di importante, non si veglia, non si custodisce qualcosa che non ha senso o è di poco valore. Motivo per cui è un'immagine che ci piaceva, ci solleticava anche per avere uno sguardo un po' diverso. Sentinella nel suo compito forse ha quello di riuscire a cogliere proprio nel cuore della notte i piccoli segni di luce che la natura offre. Questo oracolo è ambientato in un'oasi, è un oracolo punto scuro su questa oasi dell'Arabia settentrionale. Ci immaginavamo come poteva essere questo deserto, no? Illuminato in queste notti dove forse solo il bagliore delle stelle e della luna poteva fungere da lumino. La sentinella è colei che deve imparare a scorgere nel cuore della notte quei piccoli segni che queste luci fioche promanano. Credo che sia questo tempo in cui siamo ancora immersi. Certamente è un tempo carico di fatiche, è un tempo dove per tanti motivi il buio e le tenebre sembrano avere la meglio su tanto della nostra vita, però siamo anche convinti che possa essere anche un tempo favorevole, un tempo in cui si possa tornare a vedere, imparare a vedere ciò che è essenziale nella vita. E questo è il nostro desiderio. Non è tanto di fornire risposte, ma quanto imparare ad abitare le domande, prima farle emergere, quali sono le vere domande dell'uomo di oggi e poi provare nella forma del dialogo, nella forma del confronto aperto, forse a mischiare anche un po' i ruoli. tra sentinelle e viandanti che tra il giorno e la notte dialogano per cercare di trovare piste nuove. Senti Francesco, e pensando di essere un po' tutti incaricati di essere sentinelle, quindi ognuno senta un po' questo ruolo e non lo deleghi a nessuno, su che cosa dovremmo essere chiamati in particolare a vigilare? Che cosa come sentinelle dovremmo imparare proprio a custodire in questo tempo? Questa è una bella domanda. Noi siamo convinti che appunto le sentinelle abbiano da vegliare su qualcosa di importante e l'importante è quello, è il tempo che ci è dato, è la nostra vita, è quello che stiamo vivendo. Abbiamo avuto l'impressione che spesso questo sia il tempo soltanto dei lamenti, il tempo, forse un tempo da denigrare, un tempo da cancellare, un tempo dove il rischio di questa cronicità della pandemia porta all'indifferenza. Invece questo tempo è il nostro tesoro e questo tempo è un tempo che può dischiudere anche tante cose preziose che forse non vediamo ancora o forse cominciamo a intravedere. Però crediamo che se riusciremo insieme e solo insieme a sentirci parte comune di questo tempo e di questo spazio che ci ha dato e pian piano potremmo anche lasciare il mondo un po' migliore di come l'abbiamo trovato oppure imparare semplicemente a cogliere questa come l'occasione che la vita ci dà di vivere questo come un tempo prezioso, il nostro tempo. Francesco allora prima di iniziare questa serata e quindi questo ciclo di incontri che ci accompagnerà una parola sull'ospite di questa sera che farà la prolusione perché proprio a lui l'abbiamo affidata. Il Vescovo Monari per molti di noi, per Piacenza credo, è stato una sentinella. Lo è stato nella forma del pastore perché è stato capace di partire da quei segni piccoli. Siamo in questo momento nella sala del Vescovado, nella sala degli affreschi ma proprio qui sotto di noi un segno evidente è stato la creazione che il Vescovo Monari ha voluto della Casa della Carità come un'opera segno ma tante nelle sue relazioni sono stati appunto dei piccoli gesti di speranza e poi perché la sua competenza biblica è una competenza che può servire a tutti. Non a caso abbiamo scelto di metterlo come incipit di tutto. Volevamo che uno sguardo sulla parola, uno sguardo profettico, sapienziale, anche tecnico per certi aspetti su questo oracolo di Isaia e quindi sul titolo che abbiamo dato a questo ciclo di incontri potesse fornirci la chiave di lettura per poi provare a ordinare le puntate che seguiranno. Quindi una sorta di occhiali che abbiamo affidato a lui per aiutarci ad entrare in questo mistero che è l'oracolo di Isaia ma anche il tempo che stiamo vivendo. Un oracolo oscuro, misterioso, una pagina difficile ma che ancora orli... vado orli... una pagina oscura, difficile ma che ancora oggi parla in modo molto chiaro all'uomo della contemporaneità con quello che stiamo vivendo, con questa complessità, con le fragilità che sono emerse dal covid e con i grandi interrogativi, con le incognite che abbiamo sul futuro e che proprio forse questo virus ha aperto e ci ha costretto un po' a guardare. Quindi quali sono le paure ma anche le speranze e di tutto questo parliamo con Monsignor Luciano Monari. Isaia capitolo 21 versetti 11 e 12 Oracolo su Duma È un piccolo oracolo che si trova in una serie di tre oracoli dove il primo annuncia la caduta di Babilonia. È caduta, è caduta Babilonia. E il terzo parla di un avvenimento tragico che ha messo in moto una serie infinita di profughi affamati e assetati da soccorrere in mezzo i due versetti che abbiamo ascoltato. Si capisce dal contesto che siamo davanti a un oracolo di sventura, annuncia qualche cosa di pesante da sopportare. Oracolo bravissimo e forse anche per questo oscuro, tanto oscuro che Gunkel l'aveva preso come una prova che le profezie più antiche sono enigmatiche, che sono difficili da capire, sono misteriose e oscure. Nello stesso tempo è anche un oracolo affascinante. Ancora, tanto affascinante che Don Giuseppe il Vecchio, quando fece una commemorazione di Lazzati, lo prese come fondamento di un annuncio per lui importante. Il riconoscimento che stiamo vivendo una notte della comunità. E cioè che nel nostro modo di vivere il senso della solidarietà, della vicinanza, della fraternità è venuto a meno. E che viviamo in una società che tende a frammentarsi, quindi a togliere i legami. Questo era il significato che Dossetti cavava fuori da questo oracolo. Sentinella è quanto resta della notte. Ma che cosa dice l'oracolo? Primo, è rivolto a Duma, che dovrebbe essere una oasi del deserto dell'Arabia settentrionale. Duma era uno dei figli di Ismaele. Secondo, una persona che non sappiamo chi sia, si rivolge al profeta e gli grida Sentinella, quanto resta della notte? E la domanda è così importante che la ripete due volte, è urgente, ha bisogno di saperlo e di saperlo subito. E la risposta del profeta dice Primo, annuncia la venuta del mattino, ma poi ancora della notte. E invita a tre cose. Domandate, tornate, venite. Il senso della domanda, Sentinella, quanto resta della notte, può essere duplice nel testo ebraico. Può voler dire Che cosa c'è in questa notte che stiamo vivendo? Che cosa ne verrà fuori? E può voler dire Quanto tempo dobbiamo ancora aspettare Perché finalmente venga il mattino che desideriamo? E la risposta, anche questa, è oscura, non c'è niente da fare. La Sentinella risponde dicendo È vero, la notte che stiamo vivendo finirà Ma non illudetevi Perché dopo il giorno tornerà ancora la notte E l'incertezza, l'angoscia, potranno riprendere Dovete imparare a vivere nell'oscurità Anche nell'incertezza e nel timore E può voler dire anche È ancora presto C'è ancora molto tempo Prima che possa avvenire davvero il giorno Dovete abituarvi a vivere nel buio E a sapere sopravvivere anche A questo periodo di oscurità e di fatica Poi, su questa base, fa un invito Primo, se volete domandare, domandate E vuol dire Tenete vivo il desiderio La domanda esprime il desiderio dell'uomo E questo desiderio vuole tenuto vivo È vero, è notte, è vero Forse la notte sarà anche lunga Ma il desiderio, la domanda Tenetela e rinnovatela Non lasciatela diventare vecchia Deve essere dentro al vostro cuore Voi con questo dovete anche ritornare E ritornare è lo stesso in ebraico Che convertirsi vuol dire C'è una distanza tra quello dove dovremmo essere E quello dove siamo Dobbiamo tornare indietro E riprendere la strada giusta E finalmente, terzo imperativo Venite E vuol dire Il fatto che sia notte Non è motivo di paradisi Non dovete dormire E diventare inerti Come a volte succede Nella notte Dovete invece Mettervi in cammino Questi sono i messaggi Che il profeta Voleva indirizzare Non sappiamo a chi E non sappiamo esattamente Nemmeno quando In quale occasione particolare Domandate Convertitevi Venite Il problema però Non è semplicemente questo Questo è quello che dice Isaia Ma un brano così Che cosa può volere dire Per noi Che cosa ci sollecita A pensare A vivere Perché Come dicevo prima È un oracolo Che per certi versi Affascina Affascina Perché gioca Sull'attesa Sul desiderio Sul bisogno Di aprirsi al futuro E di vedere Nel futuro Degli spiragli Di speranza E di vita E di gioia È il tema grande Della speranza Che va al di là Della situazione Concreta In cui Il nostro oracolo È nato Che riguarda anche noi È notte Non vediamo bene La situazione In cui ci troviamo E non conosciamo Nemmeno bene Gli esiti Possibili Dove possiamo andare A parare Però Il futuro Ci attira Nello stesso tempo Ci impaurisce Perché non riusciamo A decifrarlo Ma ci attira Vorremmo Vorremmo Che ci fosse Una sentinella Qualcuno Di messo così In alto Che è al di sopra Dell'oscurità E della tenebra Che possa ricevere Il messaggio Della verità E del futuro E che ce lo possa Trasmettere Che ci metta In comunicazione Con colui Che del futuro Ha le chiavi Che del futuro Ha il potere Perché se riusciamo A metterci in comunicazione Con lui Abbiamo Un fondamento Di speranza Vi ricordo Vi ricordo che Naturalmente Questa trasmissione Così come tutte le altre Che saranno trasmesse Rimarranno poi A disposizione Sul canale YouTube Della Diocesi Questo perché Siano ancora visibili Da voi E anche come Dicevamo Proprio nell'intervista Iniziale Magari da guardare Anche insieme In famiglia Genitori e figli O chi lo sa Perché anche a scuola Potrebbe essere Un buon motivo Di riflessione E di analisi E intanto Ascoltiamo il commento Al Vangelo Di questa domenica Con Monsignor Giuseppe Buzan Celebriamo la seconda domenica Di Pasqua È Pasqua Non si chiamano Domeniche dopo Pasqua Perché la Pasqua È un unico giorno Che si svolge In 50 giorni In un tempo ampio Sant'Agostino diceva Che il tempo di Pasqua È un grande alleluia Che ha bisogno Di una cassa Di risonanza ampia La cassa Di risonanza Dei 50 giorni Dove Deve continuamente Risuonare La gioia pasquale L'alleluia pasquale E la domenica Dopo Pasqua Era chiamata Domenica in Albis I neofiti Cioè quelli Che erano Stati battezzati Nella veglia pasquale Avevano ricevuto Tutti i sacramenti Dell'iniziazione cristiana Vivevano La prima settimana Partecipando Alla vita della chiesa Con l'abito bianco Ricevuto proprio In quella notte E nella domenica In Albis Lo deponevano Ai piedi Del vescovo Ai piedi dei ministri E di coloro Che l'avevano Accompagnati Alla fede Per ritornare Alla vita quotidiana Con il cuore rinnovato Abitati E abituati Allo stile di vita Del risorto È chiamata anche A partire da Giovanni Paolo II Domenica della divina misericordia E lo scopriremo Proprio nel Vangelo Che comincia così Il primo giorno della settimana Mentre erano chiuse le porte Dove si trovavano i discepoli Per timore dei giudei Venne Gesù Stetti in mezzalore E disse Pace a voi Il primo giorno della settimana Da questo primo giorno della settimana Ogni sette giorni Noi celebriamo la domenica Il giorno del Signore vittorioso È il giorno decisivo Dell'intervento di Dio La morte è vinta Ed è il giorno in cui Il risorto si fa presente Arriva in mezzo al suo popolo E sta in mezzo al suo popolo Ed è interessante Perché il Vangelo Con una nota Delle porte chiuse Dice che Il vivente Il risorto Il vittorioso sulla morte Fa ingresso Nelle stanze Dove l'uomo È ancora chiuso in se stesso Potremmo dire Nelle chiusure dell'uomo Nelle ferite dell'uomo Difatti Questa comunità Riunita In questo giorno È una comunità Ancora chiusa È una comunità Incompleta Mancherà qualcuno È una comunità ferita È una comunità Che porta dentro Un interrogativo E anche un angoscio Ebbene Viene con il suo corpo Di gloria Cioè A vincere le paure E a vincere le chiusure E a far saltare Queste barriere Che sono barriere di morte Ma viene soprattutto Ed ecco la novità Con il suo corpo Che porta i segni Della passione Che vuol dire I segni Dell'amore Vissuto Fino alla fine Le ferite Che l'amore Ha subito Per poter Continuare Ad amare Ad amare Anche i discepoli Che vivono Questa difficoltà Ad amare Anche noi E difatti La prima parola Che Gesù pronuncia È un saluto Un augurio Pace a voi E sarà sempre così Il modo di presentarsi Del Signore Colui che Mostrando le sue ferite Cioè La sua passione d'amore Porta pace Nel cuore degli uomini Ma porta anche Un altro dono Soffiò Su di loro Viene quindi Con il suo corpo ferito Con il suo corpo glorioso Ma anche con il suo Soffio vitale Perché il suo Soffio vitale Perché vuole Ricreare il cuore Dei suoi Perché siano in grado Di portare nel mondo La sua novità E in che cosa consiste La sua novità Nel portare Misericordia Perdono dei peccati Nel trasmettere Il perdono dei peccati Che loro ricevono Dalla passione di Gesù Dalla morte di Gesù Perché di questo L'umanità ha bisogno Per continuare a vivere Abbiamo bisogno Di perdono dei peccati E per questo Che forse Giovanni Paolo II Ha chiamato anche Questa festa Questa domenica Domenica Della divina misericordia Della divina misericordia Perché il perdono Si è trasmesso Non c'è altra possibilità Di vita nuova Se non attraverso Il perdono E la comunità Dei cristiani È una comunità Di perdonati Il Vangelo continua E ci dice che In questa comunità Riunita Tommaso Uno dei dodici Non era con loro In questo giorno Tommaso diventa Il protagonista Del Vangelo Da questo punto in poi In questa domenica Tommaso potremmo dire È il discepolo Degli estremi Perché è il discepolo Degli estremi Perché lo incontriamo In un primo momento Nel Vangelo di Giovanni E soltanto nel Vangelo Di Giovanni Al capitolo undici Quando dice Andiamo anche noi A morire con Gesù Perché Gesù Doveva andare Dal suo amico Lazzaro Ma doveva attraversare La Giudea E lì avevano i nemici Che avrebbero potuto Condannarlo a morte In questo momento Tommaso Si dimostra Forte Coraggioso Controcorrente Con un forte legame Con Gesù Ma subito dopo Lo troviamo In difficoltà Perché quando Gesù Dice che andrà al Padre Dice ma noi non conosciamo Dove vai Non conosciamo la via Come possiamo sapere Dove vai Davanti all'annuncio Della partenza di Gesù Si trova in una condizione Di incomprensione Signore non sappiamo Dove vai Come possiamo conoscere La via Dimostra quindi Di non sapere Ma In quest'ora In cui Il Vangelo Della risurrezione Narrato Troviamo un'altra nota Tommaso è assente Non è con i suoi Una presa di esistenza Non sappiamo il perché Senz'altro è Una fede In difficoltà Ma anche Una relazione Con gli altri In difficoltà Perché non era Con loro E quando Otto giorni dopo Ritorna Tutto cambierà Ecco perché È il discepolo Degli estremi Da questa distanza Da questa assenza Da questa resistenza Diventerà Il testimone Di una fede Straordinaria Da questo coraggio Che aveva dimostrato Agli inizi Diventa anche Incapace Di comprendere Vive sempre Questa oscillazione Tommaso Quando entra Dei discepoli Riceve un annuncio Meraviglioso Dice abbiamo visto Il Signore E lui continua Ostinatamente A manifestare I suoi dubbi Anche le sue pretese E dice Se io non vedo Se io non tocco Le sue mani Il suo costato Non credo Una resistenza Un'ostinazione Una diffidenza Un sospetto Otto giorni dopo Il Signore ritorna E questa volta Dommaso È con gli amici E questa volta Il Signore Si rivolge Proprio a Tommaso E se Dommaso Aveva detto Aveva posto Tre condizioni Aveva detto Tre se Gesù si presenta E si rivolge A lui Con cinque si E gli dice Tommaso Metti pure Il tuo dito Nelle Nelle mie Nelle mie ferite Metti pure La tua mano Nel mio costato Guarda pure Il mio volto Il mio corpo Non essere incredulo Ma diventa credente Prende le sue parole E trasforma il sé In un sì E un sì In cui aggiunge Anche dei doni nuovi Tommaso Tommaso si sente preso Sul serio Si sente accolto E a quel momento In quel momento Senza pretendere Di toccare Di afferrare Cade in ginocchi E fa la più bella Professione di fede Mio Signore E mio Dio Signore vuol dire Vittorioso Sulla morte Dio vuol dire Che sei veramente Il figlio di Dio Sei veramente Colui che È la rivelazione Definitiva di Dio Di te Ci possiamo Fidare Definitivamente E allora Fa questa professione Di fede Che è totale E cordiale In cui c'è Uno slancio Un affetto E un desiderio Di appartenenza Definitiva Ecco Chiediamo anche noi La grazia Di poter stare dentro La relazione con Gesù Anche se oscillante In questa tensione Verso un incontro Che anche a noi Portare la sua pace La sua misericordia E soprattutto La possibilità Di credere Di nuovo Di ricominciare A credere Con una fede cordiale E se possibile Totale E siamo ormai Arrivati alla quarta Tappa Del nostro percorso Di avvicinamento Verso la Madonna Sistina La mostra Che si aprirà Verso la metà di maggio La data ancora Non è stata precisata Proprio per le restrizioni Ulteriori Che sono arrivate In questo periodo Per il Covid Ma ci si augura Che appunto Per quella data Si potranno aprire Le porte Di questa mostra Che ci farà Virtualmente Rivedere Il capolavoro Di Raffaello Nel posto Per il quale Era stata pensata E creata Intanto vediamo La seconda parte Parte della storia Di questo dipinto Del percorso Che ha fatto Da quando è stata Posizionata qui Da quando poi Se n'è andata Sempre con Eugenio Gazzola La Madonna Sistina La Madonna Sistina Arriva a Dresda Il primo di marzo Del 1754 Ha compiuto Un viaggio Di 40 giorni In pieno inverno Ha valicato Il passo del Brennero Su un carro Di foggio speciale È scritto E arriva dunque Nella capitale Della Sassonia Dove è attesa Con molto impazienza Da Augusto III Il sovrano Che per avere Un Raffaello Ha condotto Una trattativa Estenuante Di due anni Con i monaci Di Piacenza I quali non sono I quali irremovibili Non hanno indietreggiato Di un passo Dalle cifre iniziali Augusto III Diventa protagonista Da questo punto Di un addendoto Che non ha riscontri Nella realtà storica E che racconta Di come Veduto il quadro Tolto il quadro Dalla sua cassa Lo abbia collocato Di slancio Sul suo trono E abbia avvicinato Il trono Ad una fonte di luce Ad una finestra Per avere una luce migliore Con cui ammirarlo Dresda era già La Firenze sull'Elba Di cui si parla Molto spesso E lo era dal tempo Del padre Di Augusto III Vale a dire Federico Augusto I Il quale Aveva non solo Grandemente aumentato La collezione Ricevuta in eredità Sua volta Dal padre Che era minima cosa Rispetto a quello Che sarebbe diventato Con lui Ma l'aveva appunto Arricchita Di tantissime acquisizioni E aveva lasciato Al figlio Oltre alla collezione Il complesso Museale Dello Swinger Vale a dire Quella Quel gruppo Quel complesso Monumentale Nel centro di Dresda Nel quale sono Riunite Tutti i musei principali Della città Dunque In questo modo La Madonna Sistina Passa dal silenzio Dall'ombra Della lontana chiesa Di provincia Questa chiesa La chiesa Di San Sisto Di Piacenza Al clamore Dell'esposizione In uno dei musei Più famosi Più visitati D'Europa Tra i primi Che l'ammirano C'è L'archeologo John Winckelman Che allora Per la verità Svolgeva funzione Di bibliotecario Di corte E che stava Ridigendo Uno dei testi Base Del Canone Neoclassico Intorno All'arte greca Intorno All'imitazione Appunto Dell'arte greca Nella modernità Cosa nella quale Naturalmente La Madonna Sistina Rientrava pieno Lo stesso Raffaello Si è rispirato A modelli greci Abbiamo già detto La volta precedente Quanto L'incedere Dell'immagine centrale Cioè della Madonna Assomiglia a quella Dell'Apollo Belvedere Da questo momento in avanti Incomincia Per il dipinto Di Raffaello Quel successo mondiale Di cui Siamo a conoscenza Che adesso Cercheremo Di Passare Velocemente Per tappe Tenendo presente Però Che Unico dipinto In questo caso Unico dipinto Di questo genere La Madonna Sistina Riesce a colpire L'immaginario Di persone Tra loro Differenti Di Riesce a diventare Un'immagine centrale Per epoche Tra loro Contrapposte addirittura Senza perdere nulla Della sua autenticità È un quadro Evidentemente È un'immagine Che continuamente Accade Nell'immaginario Degli osservatori Tra i primi Naturalmente Che ne rendono Omaggio E rendono testimonianza Nel loro lavoro Dell'incontro Con Madonna Sistina C'è Wolfgang Goethe Il quale la vede Negli ultimi Anni Del Settecento Lo seguirà subito Herder L'autore delle lettere Per la promozione Dell'umanità Entrambi In un certo In un certo modo Cercano di sottolineare Come sia L'amore materno Come a vedere Questo quadro Si capisca Quanto sia L'amore materno L'ispiratore Dell'arte E della poesia Cosa che andrà bene Fino a un certo punto Ai romantici Che sono Che già Premono alle porte I giovani Della nuova Della nuova Generazione I quali In realtà Nella Madonna Sistina Vedono L'unione L'amore Tra la terra E il cielo Tra ciò che è terrestre E ciò che è divino Da questo momento in avanti La Madonna Sistina È La Madonna di Raffaello È La Madonna di Vresda Da questo momento Non ci sono altre Madonna di Raffaello Ed è un po' strano Dirlo Detto in Italia Dove invece Raffaello È autore di tantissime Madonna Per qualsiasi Destinazione Pubblica O privata Da quel momento Non c'è bisogno Di specificare La Madonna di Sanzisto La Madonna di Sanzisto È la Madonna di Raffaello E la Madonna di Raffaello È stata ispirata Direttamente Dal cielo Al pittore Il quale Se ne è commosso Al punto Da imprimersene nella mente Da riprodurlo Soltanto sulla base del ricordo Ecco Questo racconto Rimarrà talmente vivo Nell'immaginario Dei tedeschi E dell'Europa orientale Da imprimersi anche Nei primi visitatori russi I quali Si avvicinano All'immagine Con questa Con questo racconto Nelle orecchie E se ne ritornano In Russia E ne scrivono Scrivono del loro incontro Col dipinto Tenendo presente Quest'immagine Questo provocherà In Russia Un vero e proprio Come dire Una spinta Alla devozione Nei confronti Di questa immagine Che non sarà più Soltanto Un dipinto Dell'arte Un grande capolavoro Della storia dell'arte Ma diventa Un'immagine Di devozione Soprattutto Di devozione popolare Cominceranno Nei primi dell'Ottocento Si sa Cominciano a prendere corpo Le riproduzioni Popolari Le riproduzioni A stampa Di poco prezzo Cosicché Nel corso del tempo Piano piano Anche nelle abitazioni Più umili Cominciano A far capolino Le riproduzioni Dei dipinti Non più solo Le incisioni Che nel frattempo Erano partite Con grande successo Ma che aprirebbero Un capitolo Che non possiamo Affrontare qui In Germania Ma ecco È il momento Anche delle riproduzioni Della diffusione Della riproduzioni E in Russia Quest'immagine Prende talmente piede È talmente Venerata Che si inizia A parlare Di equivalenza Con le icone Della tradizione Ortodossa Viene infatti Affiancata La ritroviamo In molti romanzi Affiancata Alle icone Ortodosse Per esempio La troviamo Citata Ricordata Da Dostoevsky Il quale La mette Nell'adolescente In un angolo Di famiglia Delle icone L'angolo Delle icone Per rimanere A questo contrasto A questa diversità Di vedute Che la Madonna Sistina Che si incrociano Davanti all'immagine Della Madonna Sistina Per esempio Troviamo l'immagine Nelle chiese positiviste Inglesi Che cosa sono Le chiese positiviste Sono quei templi Laici Eretti dai seguaci Di Auguste Comte Il filosofo Sociologo Francese Il quale Aveva In opposizione Naturalmente Alla chiesa cattolica Aveva ideato Un tempio Una serie di tempi In una chiesa Umanistica Umanitaria Anzi Fondata su alcuni Principi Su alcuni cardini Che avrebbero poi Ispirato anche La sua visione Del futuro E del progresso Umano In tempi Del tutto laici Che sono luoghi Di riunione E di discussione Per gli adepti Di questa Chiamiamola chiesa Per comunità Troviamo La Madonna Sistina In quel caso Non è lì a rappresentare La madre di Dio Ma è lì a rappresentare L'ideale classico Di umanità Che la madre E il figlio Rappresentano Dai primi decenni Del novecento Diciamo Dal cubismo in avanti Quindi dal 1904 5, 6 In avanti Non regge più Nemmeno L'impianto Figurativo L'impianto Post impressionista Diventa quindi Un'immagine Richiamata Ma richiamata In contesti Del tutto estranei Alla sua Originaria destinazione Per esempio Picasso Ne richiama L'immagine Della madre Con il bambino Impostata Così come è impostato Il nostro dipinto La richiama Nel suo periodo blu Nelle vesti Di una mendicante Con il bambino Per esempio Kurt Schwitters Ne farà Una La smembrerà Ne farà Una collage Disarticolato Che è uno Dei principi Cardine Dell'avanguardia Proprio quello Di disarticolare Le immagini E riarticolarle In un'altra forma E questo avviene Più o meno All'altezza Degli anni 20 Alla madonna sistina Quindi si ritorna Nuovamente In un contesto Inaspettato Come quello Delle avanguardie Per capire Che cosa Qual è la fine Delle immagini Che per antonomasia Sono definite Belle Immortali E perenni Chiudiamo Questa Velocissima Carrellata Con Andy Warhol Il quale Pochi sanno Il maestro Della pop art Uno delle persone Più influenti Dell'arte Di tutti i tempi Era profondamente Cattolico Porta La sua famiglia Porta L'immagine Della madonna sistina Negli stati uniti Nel bagaglio Di immagini Che porta con sé Dall'Europa Negli stati uniti Conserverà un'immagine A riproduzione Vicino Nella sua camera Per tutta la vita E a un certo punto Negli anni 80 Dipinge Uno dei suoi poster Prove di poster Delle serigrafie Dedicato alla madonna sistina In cui Mancano i famosi Angioletti Perché Per restituire Centralità All'immagine vera Del dipinto Che è la madonna sistina Non sono quei due Angioletti Che per conto loro Hanno preso una strada Talmente Mondiale Sono diventati Talmente famosi Di non essere Più nemmeno collegati Al dipinto Di appartenenza In Italia Si è detto Per anni Per esempio Che erano i quadri Di una casa di mode Molto importante Molto famosa Al tempo Cioè la Fiorucci In realtà non è così Fiorucci ha sempre Spiegato Che lui aveva preso I suoi due angioletti Da una decorazione Floreale Di Bursley Un illustratore inglese Di fino a 800 Ma Questa cosa Qui è talmente passata Come si dice Ingiudicato Che continuiamo A ripeterci tra di noi Che erano Gli angioletti Della Fiorucci Vengono dagli angioletti Madonna Sistina Ma questo non Testimonia Del buon gusto O meno Di Fiorucci Testimonia Della fama Di questi due angioletti Che hanno riempito Della loro immagine Ogni angolo Di cartoleria Profumeria E immaginario Del mondo E vediamo ora L'agenda della nostra diocesi Domenica 11 aprile Alle ore 11 Il nostro vescovo Monsignor Adriano Cevolotto Celebrerà in cattedrale La messa Nella solennità Della Madonna del Popolo Ed è anche il giorno In cui ricorre L'anniversario di fondazione Nella Casa della Carità Voluta dal monsignor Luciano Monari Nel 1998 Qui in Vescovado Giovedì 15 Alle ore 10 Si terrà in remoto L'incontro per i sacerdoti E i diaconi permanenti Sul tema La tutela dei minori Nella pastorale di oggi È venerdì 16 Alle ore 21 Su Piacenza Diocesi TV Andrà in onda La seconda puntata Del ciclo Sentinella Quanto resta della notte Di cui abbiamo parlato E poi è la prima Dopo la prolusione Il tema In questo caso Sarà la salute Oltre la pandemia In studio Saranno presenti Il dottor Augusto Pagani Il dottor Giovanni Mistraletti Che modererà l'incontro Collegato in remoto Da Roma Dalla CEI Monsignor Massimo Angelelli Che si occupa appunto Di pastorale della salute Tre ospiti in studio Che interagiranno E racconteranno La loro testimonianza Come medici Infermieri E persone Colpite dalla malattia E poi guarite È tutto Per questa puntata Vi ricordo che naturalmente Sia la trasmissione Sia la lettura Del passo biblico Da parte di Monsignor Luciano Monare Sia tutto il resto Di quello che accade Nella nostra diocesi Lo trovate sul sito Vi auguro una buona settimana E vi aspetto sabato prossimo Sia la trasmissione Sia la trasmissione Sia la trasmissione Sia la trasmissione Grazie a tutti